14 marzo Gesù gli disse Io sono la via, la verità e la vita Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me Giovanni 14,6 La via che conduce a Dio Gesù dichiara che Egli è la via che conduce al Padre Più volte, parlando alla folla ma anche privatamente ai discepoli ribadisce questo concetto Il tema, certo, non era di facile comprensione Fino a quel momento era stata soltanto profetizzata la venuta del Messia Ma ora la profezia si era avverata e il Messia stesso ammaestrava su eventi futuri I discepoli non potevano comprendere fino in fondo le parole di Gesù Non avevano ancora assistito al sacrificio della croce e alla meravigliosa resurrezione del loro Maestro Ma accettavano per fede quelle parole Oggi, noi, sappiamo che Gesù è morto per i nostri peccati per prepararci un posto nel suo regno e che soltanto attraverso la morte della croce abbiamo ottenuto pace con Dio soltanto in Gesù è la salvezza Egli dice Io sono la via l'unica possibile che porta al cielo e doni la certezza della vita eterna Infatti c'è un solo Dio è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo Prima Timoteo 2.5